Il percorso fatto è stato un percorso lungo che ci ha permesso di conoscerci meglio, ci ha permesso di giocare sicuramente molto più di squadra e non come singoli e di avere un autostimo, una consapevolezza delle nostre qualità superiori e lo stiamo mettendo in campo con grande continuità, sapendo che il nostro percorso è solamente all'inizio, che ci sono ancora tante situazioni che possiamo far meglio e mantenendo questo entusiasmo, questa voglia, potremo anche crescere ulteriormente. Lo staff e i ragazzi hanno dimostrato di essere stati in grado di dimostrare ancora una volta di essere una squadra, mettendo in campo delle prestazioni importanti e ottenendo dei risultati positivi. È un Celtic che ultimamente non sta tenendo i risultati che si aspettava, un Celtic quindi molto determinato, molto agguerrito, perché affronta una squadra che è sulla bocca di tutti in questo momento e quindi ci saranno molte difficoltà. Assolutamente abbiamo fatto tanto per essere qua, per avere questa opportunità. Non so se sarà domani sera la giornata conclusiva, definitiva, per raggiungere l'obiettivo, ma sicuramente sarà una giornata importante, una partita da prendere con grande serietà. Sono sicuro che lo faremo perché vogliamo fare bene. Tutti ci sentiamo molto responsabili, tutti ci sentiamo molto dentro al nostro lavoro, alla nostra causa e tutti stiamo dando il massimo per cercare di ottenere il massimo da questa stagione. Siamo arrivati a poco a poco a poco, perché non c'è più tempo senza ieri, e è strano quando vediamo in metri, quando vediamo in giro, quando vediamo in giro, in giro, in qualche anno e in qualche anno con ieri. E, ovviamente, questo è un'altra parte che voglio essere un'altra parte, I want to feel the atmosphere in San Siro full of Milan supporters and that little bit of time that I had before the derby was fantastic to see the love that they have for the club, the support that they give for the club and it was a little bit of joy to enjoy that and I hope that this season we can get everyone back to the stadiums. I think it was a particular match when we aboard the match decently, I think tactically we were there, we were close to win like you said, but it was very tactical, we knew that Lille was a very good team when they came to San Siro, they were very good tactically as well and we needed to be prepared for that and I think we couldn't win the game and we get in the goal, we have little distractions I think for individually, but like I said as a team we need to be prepared for that and if we're compact, if we're tactically good, if we're defensively compact, I think we're going to be more closer to win and that's our mentality. Every team that plays against Milan has a little extra motivation, Celtic is a special Scottish team, they're warriors, they want to win every single game and like I said before, they're going to be motivated for sure, they want to show to their supporters that they have value and they do, so they're going to be ready for the game and we need to be ready also.